buongiorno a tutti eccoci ritrovati per il nostro consueto angolo verde di angela oggi iniziamo la seconda parte esattamente oggi facciamo la preparazione del terreno su cui poi successivamente saranno piantate le telè di uva la prima cosa che noi andiamo a fare a muovere il terreno dove andranno le telè mettere dello stallatico maturo e lasciare il terreno in attesa dell'impianto una volta delimitati con due paletti il punto di inizio e di fine su cui andranno piantate le telè con la vanga smuoviamo il terreno potete vedere il solco è stato fatto a questo punto io alla base del socco metterò lo stallatico dopodiché lo ricoprirò con un po di terra e rimarrà in questa maniera fino al momento in cui verranno impiantate le telè lo stallatico è stato posizionato è stato leggermente coperto con un poco di terra e a questo punto come ho detto rimarrà così fino al momento in cui verranno impiantate le telè con questo si conclude la seconda parte del video dalla vite al vino. Spero che abbia suscitato in voi curiosità. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al mio canale e come sempre a condividere questo video e gli altri con i vostri amici. Ci vediamo al prossimo come sempre con l'angolo verde di Angela. Ciao a tutti e buona giornata! Ciao a tutti e buona giornata!